Elisabetta Michel Bedou, tu che è Isaiana Dimmi tu perché sei qui quando mi staccai della malattia e tu mi chiedi, dimmi, come fai la mia terra ormai non esiste qui e tu mi chiedi, dimmi, come fai il nostro canale che sei qui quando mi stacciono e tu mi chiedi, dimmi, come fai ma non gli imbretto o ammai non esiste e tu mi chiedi, dimmi, come fai e tu mi chiedi, dimmi, come fai Grazie a tutti. Grazie.